La Florenzia resta l'unica squadra imbattuta di Serie B, la capolista del girone A liquida anche la pratica ligorna imponendosi 3 a 1, avvio di gara spumeggiante con Lotti che dopo 26 secondi mette i brividi alle avversarie, Florenzia ancora pericolosa meno di un minuto dopo con Vicchiarello che chiama De Nevi alla deviazione in angolo, sul corner altro miracolo del portiere ospite sulla girata di Tona, il ligorna si organizza e dalle quarto potrebbe fare male con Traverso che sfrutta un errato disimpegno della retroguardia rosso-bianca ma non supera Leoni, sull'azione successiva ci prova la svedese Jolman al debutto da titolare ma il suo tiro è centrale. È stato un buon impatto, è sempre dura in una nuova squadra ma mi sento bene e ho voglia di segnare. La Florenzia spinge e dalle sesto crea un altro pericolo questa volta con Nocchi ma in qualche modo la difesa ligure si salva. Gli sforzi della squadra di Lelli vengono premiati al sedicesimo quando sul lancio di Tona Nocchi addomestichi il pallone e poi lascia partire un tiro che supera De Nevi. È un buon momento per la Florenzia che 60 secondi dopo sfiori il raddoppio con un diagonale di bomber Nocchi che esce dalla parte opposta. Al diciannovesimo ci prova ancora Jolman ma senza fortuna. Il 2-0 è solo rimandato ed arriva al venticinquesimo ancora grazie a Esotta Nocchi che riceve palla e da distanza ravvicinata la scarica alle spalle del portiere. In chiusura di tempo punizione ben calciata da Vicchiarello sulla quale De Nevi ci arriva e mette in angolo. Si va a riposo sulle 2-0 risultato che poteva essere più rotondo. Dobbiamo stare attenti perché secondo me prima o poi poi la paghi nel senso non voglio fare l'uccello in malagurio però se continui ad arrivare al novantesimo sul 2-1 quando puoi essere sul 10-1 e poi ti fanno il 2-2. Nella ripresa il Ligorna prova a riaprirla al quinto con Nefallico che però non inquadra la porta sul fronte opposto occasionissima al 53esimo per Jolman che supera anche l'estremo difensore in uscita. Poi cerchi il gol con un colpo di testa ma la difesa avversaria libera. Le ospiti non si danno per vinte provando a rientrare in partita al 58esimo ma la sfera termina sul fondo. La compagine di Lobartolo ci crede e dalle 72esimo riapre il match con Bettalli che raccoglie un lungo lancio, lascia sul posto Rodella e fulmina con un bel tiro Leoni. Sul 2-1 tutto può ancora succedere. La Florenzia prova a chiuderla con Jolman che fa tutto molto bene ma non supera De Nevi in uscita. All'85esimo Rodella prova a sorprendere il portiere che però ci arriva. Le rosso-bianche potrebbero segnare la rete della sicurezza al novantesimo ma il tiro a giro di Vicchiarello esce di un soffio. Il 3-1 è solo rimandato ed arriva al novantunesimo grazie alla neoentrata Pompignoli che risolve una concitata azione nell'area avversaria insaccando di potenza il pallone alle spalle di De Nevi. È stata una partita molto intensa fino alla fine appunto e per fortuna la squadra ha risposto bene e siamo riusciti a chiuderla nel migliore dei modi. La partita è di fatto chiusa. Il Ligorna vorrebbe almeno il secondo gol ma l'uscita di Leoni pone fine al match che la Florenzia vince 3-1. Confermarsi è sempre più difficile che fare bene. Per cui oggi era tosta perché questo avversario ci ha messo anche in difficoltà nella partita d'andata. Per cui sapevamo che non sarebbe stato facile ed è stato appunto così.